Oggi voglio parlare di portieri. L'app di OneFootball ha già sottolineato con suoi voti alti la prestazione di Donnarumma ieri contro il Genoa, strepitoso sul tiro destinato là, all'incrocio dei pali, sul tiro di Veloso è andato e con un balzo incredibile, con una grandissima spinta alla SAG. Spalla, anca, gamba, è arrivato su quel pallone, ma ancora più bravo, ancora a metà del secondo tempo, quando è arrivato un tiro si è buttato da una parte, è riuscito con un riflesso a fermarla e poi riprendere la respinta. Quindi Donnarumma ha regalato due, forse tre punti perché il Milan fosse andato sotto quando stava ancora sullo 0-0, forse ci sarebbero state ripercussioni su una squadra già con sette giocatori assenti, sette potenziali titolari assenti. Quindi Donnarumma, ma partendo da Donnarumma, rivolgendo il giusto applauso al guardiano della luna, vado a un altro portiere che non appartiene all'Inter. Samira Andanovic non appartiene all'Inter, Samira Andanovic appartiene al calcio. E' un giocatore super partes, applausi di tutti. Certo, quando para su un tiro del giocatore del Milan io alzo gli occhi al cielo, ma subito dopo ricordo due parate su Ballotelli in un derby da 0 metri incredibili, ma ne ho nominate due. Mi è venuto proprio in mente di rivolgere questo omaggio a Andanovic dopo la prestazione nella partita col Sassuolo, una delle tante prestazioni straordinarie. Però mi è venuta in mente anche una frase, una frase, un aforisma. Non si apprezza un bene fin quando lo si perde. Perché dico questo ai tifosi dell'Inter? Perché quando sento parlare di Andanovic, sì sì sì, ma non tutti, molti però. Tanto è vero che quando a me chiedono che giocatore dell'Inter vuoi togliere, sempre alla vigilia dei derby, io non dico mai Icardi, pur riconoscendo la grandezza del cannoniere. Ma se Icardi non riceve palloni non è che si possa inventare dei gol. A volte li inventa, ma sempre con una squadra che lo aiuta. Invece Andanovic no, Andanovic regala almeno dai 10 ai 15 punti all'anno all'Inter da quando gioca all'Inter. Questa è la mia opinione. Commetterà qualche errore? Ma fa parte, perché ricordatevi signori, la perfezione, la perfezione porta al manicomio. E dato che Andanovic non vuole andare al manicomio, a volte commette qualche sbavatura. Però in generale è un portiere che esalta. Pensate a Riccardi e Bresson, Richard Avermon, i grandi fotografi messi dietro la porta di Andanovic, che fotografie potrebbero scattare. E quindi volevo proprio rivolgere da appassionato di calcio, che a volte si arrabbia, ma Andanovic fa bene a farmi arrabbiare, perché poi vuol dire che esalta le sue qualità. Quindi un applauso, ma non finisco con i portieri. Siamo pari da Donnarumma, del 99. Andanovic, ricordiamo che dall'84 compierà 35 anni, mi sembra, quest'estate. Ma l'Inter è andata a prendere, da quello che mi hanno segnalato degli agenti amici miei, un grande portiere. Brasau, come si legge. Portiere brasiliano, già migliore portiere del campionato Under 17 nel 2017. Lui è un 2000, oggi protagonista, ci auguriamo per lui per il Brasile, del campionato Under 20 sudamericano. E mi dicono grandissimo talento, grandissima prospettiva, alto 1,92. Un giocatore che l'Inter si dice, comprato a poco, 2 milioni e mezzo mi sembra, che verrà parcheggiato per ricordare il cammino di Giulio Cesar al Chievo. Quindi attenzione, lo dico ai tifosi di calcio, ovviamente sono più interessati i tifosi dell'Inter. Attenzione a questo Brasau, che mi dicono veramente il degno erede di un fuoriclasse, Samir Andanovic. E ricordate, un bene lo si apprezza, non lo si apprezza tanto fin quando lo si perde. Un bene non lo si apprezza tanto fin quando lo si perde. E quindi, io dico ai tifosi dell'Inter, mi permetto di dire, gustatevi questo grandissimo fuoriclasse. Per l'Inter vuol dire sempre partire, secondo me, da più 15. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, coi portieri, anche dell'Inter. Grazie. Grazie.